Ciao ragazzi, stiamo facendo le prove. Ci vediamo questa sera. Allora, io e Francesco ci siamo, giusto? Siamo sconvolti ragazzi, siamo sconvolti. Ma ci sono soprattutto le miss! Ragazze, salutate! Eccole qui! Urge consiglio, vi piace questo abito? Metto questo stasera, che dite? Ragazzi, tra tre minuti siamo in onda! Ragazzi, non posso neanche parlare, secondo me si sente! Ma lei si deve cambiare? Sì, al volo, 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 mi devo cambiare, mi devo cambiare! Vedete qua, Gianni. Aspetta che è scelto. Guardiamo qui! Quanto prevedenza, non faccio? Un paio di minuti. Ah, ricambiate! Il mio nuovo vestito! Andiamo! Ma cosa sono? I tegastari? Ragazzi, guardate se la setta è il programma! Non perdetevelo, tra poco sapete chi è a visitare 2018. Ciao! Ciao!